è ora di mangiare ma ancora non è pronto perciò vittoria decide di fare l'aspirapolvere prende tutto quello che gli capita vittoria anche aspirapolvere perché prendere un rumba quando hai vittoria no amore basta cibo basta cibo no niente biscottino no niente biscottino ecco vittoria che anche quando gioca mangia posso averne un pochino un pochino di pappa grazie grazie ah scusa amore devi aspettare per la pappa sì amore devi aspettare per la pappa arriva la pappa arriva la pappa amore sembra quasi che non le danno da mangiare ma invece no e ne danno veramente tanto e lei mangia anche da sola adesso e anche di gusto